Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Mr. Mario e oggi ci troviamo su New York Taxi License 3D Ne vedremo delle belle poi... Ragazzi... Perché ci sono tre livelli rossi? No, qualcuno me lo deve spiegare... Ok... D'accordo, allora... Allora, che cavolo succede qua? Non so dove l'ho portato ma ho portato un ticci in fantasma... Un fantasma... Insieme a quel ticci che ho preso adesso in taxi, li sto portando in taxi... E' d'accordo, dove devo andare? Non lo so... Che ca... Nooo... 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 Ogni volta dovrei fare il livello... Che noia... Oh, ma quello cos'è? Oh, non l'avevo... Non l'avevo visto... Non l'avevo visto ragazzi... C'è... Oh, devo mettere gli occhiali oppure era super nascosto la prima volta perché... C'è... Ma qui che bello suspense che c'è... D'accordo... Allora... Pronto? Che poi che super braccioni che hanno... Nooo... 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 E poi nooo... 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 Allora... Non è così difficile... Non ci vuole tanto... Ok, 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 ok... Dove devo andare adesso? C'è... Allora... Questo coso... Questo stupido coso si sposta... Era rosso... Era... 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 Era rosso... Che poi sembrano le braccia di Minecraft queste? D'accordo... Allora... Ce la posso fare... D'accordo... Allora... Ce la posso fare... D'accordo... Continua... 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 C'è... E' più... E' quello come ha fatto a sorpassarmi? C'è... Come... Come... Come ha fatto? Andate in contromano? Oppure... Si teletrasporta? C'è... C'è... Proprio... Allora... Vediamo dove devo andare... Tra l'altro è un nuovo livello... Allora... No... 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 E poi... No... Allora... Non è... Così... Difficile... Tipo... Stasora... Ma cosa sono passato prima? Scusa... Ci potevi venire a piedi? Così diventava tutto più facile... Ma io non ci posso credere... D'accordo... Allora... Non è difficile... Ci possiamo... Che... Cosa... Che... Non... Non devo fare ne... Mica... Ma... Non devo fare ne... Il percorso ostacoli... Perché... Quello che vedo... Non so se è un percorso ostacoli... Quello che vedo... Cavolo... Cosa... 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 D'accordo... Allora... Ci possiamo riuscire... Ci posso riuscire... Si... 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 Ragazzi non riusciamo a finirlo questo gioco... Non riusciamo a finirlo oggi... D'accordo... Qualcuno mi sa dire che livello è questo... No... Questo lo devo fare... Che cosa... Che cosa ho fatto? Cosa? Se ci... Ragazzi... Non riesco al primo tentativo a fare questo... Coso... Giuro che... Faccio... Gundam Style... Ballo Gundam Style... No... No... Si... Si... No... Che cosa... Che cosa... No... 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 E poi... No... 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 Io pensavo che ripartisse dalla retromarcia... Veramente... E poi come fa... Che... Che... Allora... Poi vi... Vi chiedo una cosa... Vi tengo sulle spine... Anche poi... D'accordo... Ce la può... Pfff... Che cosa... Che cosa... Allora... Mettiamo bene in chiaro una cosa... Una... Cosa... Se io riesco a fare questo... Questo coso... Giuro che... Giro in mutande per tutta la stanza... Non ci credo... Un millimetro... Ho schivato per un millimetro... Dai così... Vai così... Sparato... Bello... Dezio... Io... Dai... Dai... Si... Si... Allora... Mettiamo in... Mettiamo in chiaro una cosa... Dove ce li ha questo gli specchietti? Perché... Una macchina... È... Liscia... Non ci sono gli specchietti... Eppure riesco... Oh mamma... Il... Comando... Invertite... No... Non ci credo... Forza... Dai... Ragazzi... Ci vorrà un'eternità... Per fare questo... Stupido livello... Dai... Dai... Sì... Fai così... Tra un po'... Devo andare in bagno... Ragazzi... A forza di fare questi versi... Mi viene da andare in bagno... Tra un poco... Aiuto... Sì... 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 No... L'occhietta... Allora... E dai... Finalmente un pezzettino... Minuscolo... L'hai fatto... Incredibile... Non ci credo... Non ci credo... Lo fa... Ce lo fa... Ce lo faccio... Ce lo posso fare... Ce lo posso fare... Non ci posso... Credere... Non ci posso credere... No... 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 Va bene... Non ce la faccio... Più... 5 livelli... Ho fatto... 5 livelli... In... E... Non ci posso credere... Ci ho fatto... 5 livelli... In tutto questo tempo... Non ci credo... No... Dai... Vabbè... Ragazzi... Se il video vi è piaciuto... Mettete un commento... Mi piace qua sotto... E... Qui è tutto... E ci vediamo... Al prossimo video... Bella ragazzi... E... 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 Grazie.